Radio Revolution è la web radio degli studenti universitari di Parma, uno strumento messo al servizio della creatività e delle competenze che ogni giorno gli studenti acquisiscono dentro e fuori le aule universitarie. Il progetto è nato nel 2010 da un gruppo di giovani provenienti da facoltà molto diverse fra loro, ma uniti dal comune desiderio di comunicare in modo originale e innovativo. Da allora molte cose sono successe e molte persone sono passate nei nostri studi, creando programmi sempre diversi. Non mancano dibattiti su temi sociali che stanno a cuore ai parmigiani, confronti politici, rubriche inerenti libri, viaggi, cucina dal mondo, letteratura, cinema e la storia della musica. I volontari che danno vita a questa fantastica realtà, quando non sono impegnati in uno dei 17 programmi che vanno in onda su Radio Revolution, sono spesso nelle piazze della città a sostenere con tanta buona musica le iniziative cittadine. Radio Revolution negli ultimi anni ha avviato diverse collaborazioni con i teatri della città, da cui sono spucciati programmi radiofonici e persino un radiodramma. Ma se il teatro non vi piace, potete sintonizzarvi per ascoltare concerti in live streaming sul nostro sito www.radiorevolution.it E potrete interagire con noi e le band in studio tramite social o con WhatsApp. Se volete conoscerci meglio, consultate il palinsesto su www.radiorevolution.it E se siete impazienti o avete perso la diretta del vostro programma preferito, ci sono i podcast. Insomma, potete portarci sempre in tasca con voi insieme al vostro smartphone. E mi raccomando, stay tuned! Grazie a tutti!